A che livello? L'americana Grayson Murphy andrà a stabilire un nuovo record del percorso ed è ancora qui straordinaria con una prestazione incredibile Grayson Murphy in testa fin dalle prime battute batti in 5 per un nuovo tempo straordinario vediamo il trenometro si ferma sul tempo di attenzione 1 ora 45 e 56 guarda il record della Burigi 1 ora 45 e 56 non riesco a fare i calcoli 6 minuti in meno dal record precedente